Come società abbiamo deciso di aiutare l'NGS Porto, in quanto è una società sana, di buoni principi. Le ragazze sono impegnate e chiaramente quindi fuori da pericoli, dalla strada. Quest'anno abbiamo deciso di aiutare soprattutto il settore giovanile e sponsorizziamo l'Under 16 e l'Under 18. Per cui auguriamo alla società buona fortuna, in bocca al lupo e di ottenere buoni risultati anche con la prima squadra. Grazie a tutti.